Mortalità infantile cresciuta in Grecia con punte del 43% ma il Corriere della Sera te lo nasconde. Sentite un po' che cosa dice Fubini del Corriere della Sera. Sentite. Sì, beh faccio una confessione che c'è un articolo che non ho voluto scrivere, devo dire sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera non c'entra nulla, neanche sapevano che ci stavo lavorando, ma insomma io sono appassionato di dati e guardando i dati della mortalità infantile in Grecia mi sono accorto che facendo tutti i calcoli con la crisi sicuramente sono, mortalità infantile sono purtroppo i decessi di bambini dagli 0 ai 12 mesi di età, sono morti in Grecia 700 bambini in più di quanti ne sarebbero morti se la mortalità infantile fosse rimasta quella di prima della crisi. Dunque la crisi e il modo in cui è stata gestita la crisi in Grecia ha avuto questo effetto drammatico e devo dire che ci sono altri dati che confortano questa mia conclusione perché purtroppo si vedono i bambini nati sotto peso e altri aspetti del genere e ho deciso di non scrivere, adesso nel libro lo scrivo e lo racconto in dettaglio. Perché hai deciso di non scriverlo allora e perché ti sei pentito di non averlo scritto? Ho deciso di non scrivere perché il dibattito in Italia è così avvelenato tra anti-europei che sono pronti a usare qualunque materiale come una clava ma non solo contro l'Europa, contro quello che l'Europa rappresenta. L'Europa rappresenta un principio di democrazia fondata sulle regole e sulle istituzioni, dunque usare come una clava qualunque materiale contro la democrazia fondata sulle istituzioni e sulle regole, istituzioni anche indipendenti dal potere esecutivo da un lato e dall'altro gli anti-europei che appunto come dicevo prima rifiutano di affrontare questi argomenti, dunque mi sono detto se scrivo questo vengo strumentalizzato dagli uni, gli anti-europei e in qualche modo ostracizzato dagli altri e la sostanza del problema si perde e dovrei passare il tempo a difendermi da attacchi assurdi sui social network e non sui social network. Ti ricordo che sono stato persino denunciato in procura da un senatore della maggioranza, dunque per dirti il clima di oggi mi è passata la voglia ed è un grande peccato e credo, spero di essermi come dire un po' ripreso dedicando un capitolo. E in effetti ha ragione, la mortalità infantile in Grecia è cresciuta, secondo i dati di Oxford, Cambridge, dell'università di Atene addirittura con punte del 43%, il tutto dopo la crisi economica e l'arrivo della troica europea. Ma non solo perché il dato grave riguarda anche gli over 85 dove la mortalità è cresciuta del 25%. Ma tutto questo l'editorialista del Corriere della Sera, Fubini, lo nasconde ai suoi lettori gli italiani perché avrebbe aiutato gli anti-europeisti che avrebbero utilizzato queste parole come una clava contro l'Europa e i suoi valori democratici. Bella democrazia! Sì perché l'Europa, quella che si basa su valori fondanti come quelli dell'accoglienza e della democrazia è la stessa che se ne fotte dei bambini greci che purtroppo sono morti a causa della crisi economica dovuta all'austerità. Insomma, qualche bambino greco vale molto di meno rispetto al salvataggio delle banche francesi e tedesche. Insomma, non bisogna essere anti-europeisti per pensare che quello che è successo in Grecia potrebbe potenzialmente succedere anche in Italia e quelli che insistono sull'utilizzo del MES e del Recovery Fund sono semplicemente quelli che potrebbero potenzialmente portarci la troica in casa. Italiano avvisato, bimbo salvato.